Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi parliamo dei must have per questa primavera barra estate perché ormai la primavera è iniziata ma è anche già finita quindi... In questo video, o in questo non so dove apparirà, vi ho parlato dei must have a livello di abbigliamento quindi magliette, vestiti, pantaloni, trench, cose, bla 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 da avere per forza sempre per questa stagione, vi avevo chiesto se volevate anche la versione con gli accessori e quindi eccomi qua! E partiamo dalle scarpe, allora secondo me la scarpa da avere per forza soprattutto quest'anno è il texano lui veramente è un must anche in estate quando magari piove, quando fa un pochino più freschino se volete andare a fare una serata in una discoteca all'aperto tra il pantano c'è il texano, ci vuole io in realtà utilizzo tantissimo anche gli affibi ma non li metterò all'interno di questo video perché so che siamo una piccolissima percentuale dato che stiamo parlando di must have non è un must have l'anfibio in estate, per me sì però questo è un altro discorso quindi un bel texano, questo era di Quanticlo ma raga non lo fanno più, è distrutto dalla vita io dovrò anche comprarne uno nuovo e possibilmente la prossima volta lo comprerò in pelle perché quando ho preso questi non sapevo neanche se mi piacevano effettivamente i texani poi le scarpe da ginnastica, queste sono le vans alte col platform io le amo, le utilizzo anche se dobbiamo andare a fare delle camminate in montagna anche se non si fa però raga quanto sono carine ecco le scarpe da ginnastica almeno un paio ci vuole io sono la prima ad utilizzarle molto poco, considerate che hanno due anni e le suole sono perfette una ciabattina, questa tra l'altro ha già il segno delle dita e queste invece le ho prese l'anno scorso le ho già devastate, le ho prese perché dalle mie parti al Cereda a Monza sono in pelle vera perché ce li ho anche non in pelle di tanti colori però ho detto dai investiamo almeno su una fatta bene normalmente io utilizzavo in realtà solo in fradito poi mi sono rotta, l'anno scorso è andato stra virale il modello similar mess mi trovo veramente bene, mi piacciono tanto i piedi quindi provatevi tutti i sandali del mondo però almeno un sandaletto ci vuole con i vestitini, con lo shorts stanno sempre bene allo stesso modo abbiamo bisogno di un sandalo col tacco che sia per una cerimonia, che sia per una serata, qualsiasi cosa cioè un sandalo col tacco nell'armadio ci vuole questi vabbè lo vedete sono di Zara, li avevo presi per una cerimonia e poi non lo so perché non li ho praticamente mai usati se non per degli shooting quindi quest'anno voglio sfruttarli al massimo e poi l'oro, cioè la ciabattina in plastica per andare al mare, per andare al lago, per andare in spiaggia per andare in piscina, per andare un po' dove cacchio vi pare queste raga io le ho trovate quest'inverno a 17 euro forse anche meno della Vaianas con tutti i brillantini oro tra l'altro adesso le ho fatte anche leopardate tipo peluciose raga pazzesche penso che le ordinerò e l'oro vabbè raga che ve lo dico a fare quindi facciamo un recap un texano o uno stivaletto basso vi ricordate gli indianini? raga no io li voglio troppo gli Hector ma che sogno io li usavo sempre li amavo tantissimo un texano una scarpa da ginnastica una ciabattina una ciabattina di plastica e un tacco un sandalo col tacco passiamo adesso alle borse allora in realtà io ho selezionato tre borse da giorno perché tre allora ne abbiamo una per il lavoro quindi magari una borsa un po' più capiente anche se quest'anno la moda dice che va bene anche una mini borsettina quindi una pochettina e poi la tote bag in tela però io quest'anno con lei mi sto trovando molto bene perché all'interno metto la macchina fotografica i power bank e tutto e quando devo andare a fare dei lavori ho tutto qua dentro e la trovo anche molto carina mi dà un po' l'aria professional sappiamo tutti che è una copia di una borsa che non posso permettermi però io la trovo molto carina una borsa da giorno per quando invece non state lavorando anche se appunto lei una tote bag in tela e siete a posto tra l'altro io sono sempre stata fan delle borse nere tutto l'anno ma mi rendo conto che fanno tanto inverno autunno quindi provate provate poi se non vi piacciono chi se ne prega delle borse magari di colori diversi comunque anche questo non è un colore prettamente primaveri l'estivo però a me piace e quindi dico vabbè piuttosto che no diamo un tocco di colore questa è di GW Pay ed è pazzesca la borsetta di paglia raga quanto è carina ecco se le altre due sono borse un po' più costose perché comunque anche la prima è in vera pelle qua è di GW Pay è di GW Pay questa è di Shein quindi magari una borsa così per andare al lago per andare in spiaggia dove potete anche non investire chissà quanti soldi però io la trovo molto carina tra l'altro all'interno anche il tessuto il contenitore per mettere tutto senza che vada in giro quindi in realtà è fatta anche molto bene ci ho attaccato questa bandana per renderla un pochino più particolare devo dire che secondo me questo è veramente un must e infine una borsettina per la sera anche questa ad esempio è di Shein ce l'ho ormai da tre anni forse di più non lo so non si è rovinata è fatta per niente è fatta molto bene non ho perso neanche un brillantino ora che ci guardo io normalmente utilizzo quella di Saint Laurent però appunto primavera estate la trovo un po' nera così la utilizzo un pochettino meno soprattutto per andare a fare serate in posti dove si distruggerebbe quindi lei è perfetta quindi recap una borsa da giorno per il lavoro un'altra borsa da giorno per quando non state lavorando a meno che non uniate le due cose usate una tote bag quindi in caso aggiungiamo una tote bag e la borsa di paglia e la borsa per la sera e secondo me con queste siete a posto e fate tantissimi look altri must have sono i foulard e le bandane raga loro secondo me servono tantissimo perché? questo ve lo mettete in testa e ci fate una bella bandana che fa look anche con un abitino nero cioè immaginate questo abitino nero semplice little black dress proprio easy che abbiamo messo nell'altro video e una ciabattina oppure un tacco oppure un texano con quale borsa? con quella grande da giorno con quella da sera cioè ci sta sempre bene raga facile facile adesso vabbè non l'ho neanche messo bene però oppure avete la vostra borsa questa qui di paglia soprattutto la volete rendere un po' più unica e ci mettete il fularino no? potete anche legarlo sui manici e fare una cosa carina adesso questo è gigante per questa borsa però potete fare anche una cosa del genere potete sfruttarlo da legare magari alle gambe per fare qualche foto potete usarlo come cintura che è un po' più svolazzante rispetto a una classica cintura potete utilizzarlo per farci un top potete utilizzarlo come scialle se all'improvviso avete freddo e siete in giro con i vostri amici potete sfruttarlo raga in mille modi diversi utilizzate i fular danno un po' più di stile vi contraddistinguono rendono un po' più divertente il look quindi magari andate nel cassetto della mamma della nonna di chi vi pare prendete i fular e giocateci scoprirete che potete sfruttarlo anche per delle foto molto belline passiamo adesso ai gioielli l'accessorio per eccellenza mi devono arrivare tra l'altro delle cose molto carine che voglio troppo farvi vedere nel prossimo video haul che sta per arrivare e volevo dirvi scegliete o gli orecchini o una collana vissosa quindi uno di questi prendeteli non per forza costosi ma vissosi per esempio questi orecchini questi vedete che sono belli grossi perché perché anche qui se fa caldo volete mettervi proprio un vestito di quelli scialli la ciabattina perché non sopportate più il caldo ma volete che il look comunque magari è per una serata magari è per un evento qualcosa di carino un aperitivo un drink volete essere un po' più ci mettete l'orecchino e già avete reso il look molto più bello molto più da sera cioè ci vuole un attimo ed è un orecchino vorrei aggiungere un accessorio che però io non ho è un must have che io non ho quindi devo andare a fare shopping un cappello estivo bello io utilizzo tanto quelli un po' texani così in inverno però non ho la versione estivo meglio ce l'avevo ma è scomparsa nel trasloco l'anno scorso quindi ne prenderò uno nuovo e adesso che siamo arrivati alla fine di questo video io voglio sapere invece quali sono i vostri must have per questa primavera estate scrivetemeli qua sotto nei commenti io vi leggo sempre vi rispondo sempre rispondo a tutti e se siete arrivate fino alla fine di questo video ricordatevi di iscrivervi al canale vi vedo che tanti di voi non sono ancora iscritte e io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao